I finanzieri della compagnia di bagheria hanno sequestrato quattro totellate e mezzo di tonno rosso in un deposito di pesce riconducibile ad una pescheria di bagheria. In particolare le fiamme gialle individuavano alcuni furgoni provenienti al porto della frazione marittima di Porticello, nel comune di Santa Flavia, che di notte procedevano verso un deposito proprio a bagheria. I finanzieri, durante il controllo nel deposito di pesce completo di celle frigorifere, hanno trovato 18 esemplari di tonno rosso pinna blu privi del documento di cattura destinata alla vendita nei principali mercati ittici delle province di Palermo e di Trapani. La pesca del tonno rosso pinna blu è sottoposta a rigide regole di contingentamento e tracciamento finalizzate da un lato ad impedire che vengano immessi sul mercato prodotti ittici non sicuri per la salute dei consumatori e dall'altro a garantire la sopravvivenza di questa specie, ormai a rischio estinzione a causa della pesca intensiva che alimenta un fiorente mercato nero di questo prodotto ricercato per la prelibatezza delle sue carni e per gli ingenti guadagni derivanti dalla sua vendita. Le fiamme gialle hanno quindi provveduto a segnalare il responsabile trasgressore della pescheria e l'autorità marittima competente per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità che prevede, oltre al sequestro e ai fini della confisca, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 2.000 euro a massimo di 12.000 euro, sanzione raddoppiata in quanto la specie ittica del tonno rosso è a rischio estinzione. I generi alimentari sequestrati sono stati devoluti all'Onlus, Banco Alimentare Sicilia Occidentale.